Sono giorni importanti anche per gli allevatori di Vilminore di Scalve, l'amministrazione comunale ha trovato una soluzione per quello che può essere magari un problema minore ma che in realtà per gli allevatori è un grande problema di smaltimento di quello che è il letame. Sì effettivamente è da alcuni mesi che stiamo lavorando su questo problema che riguarda i nostri allevatori del comune di Vilminore e non solo in quanto c'è un'eccessiva produzione di letame e quindi c'è un problema di smaltimento di questo materiale organico e ci stiamo adoperando per predisporre un progetto di fattibilità per la realizzazione di una letamaia che appunto dia la possibilità ai nostri agricoltori di conferire quello che è appunto il letame, lo scarto animale insomma ecco e quindi tramite un processo questo letame viene poi trasformato in quello che può essere il terriccio, il normale terriccio che viene poi utilizzato per qualsiasi attività. E quali sono gli step di questa operazione? Appunto adesso stiamo predisponendo uno studio di fattibilità che dovremmo aver pronto entro fine settembre ecco. Quindi poi successivamente noi adesso ovviamente abbiamo individuato una zona e in questa zona che riteniamo sia nella posizione ideale dove appunto si accomoda un po' per tutti ecco e una volta avuto appunto lo studio di fattibilità pensare insieme agli agricoltori ovviamente coinvolgere gli agricoltori e pensare a una soluzione che sia poi anche sostenibile dal punto di vista economico. appunto appunto per la realizzazione e poi anche per la gestione. Eh sì perché mantenere chiaramente il letame ammucchiato nelle proprie aziende non è un'operazione legale e questo provoca diverse sanzioni e sanzioni davvero molto pesanti. Sì esattamente infatti purtroppo abbiamo anche avuto casi recenti che hanno appunto interessato alcuni allevatori a questo proposito. Motivo in più appunto che stiamo cercando una soluzione che sia appunto definitiva ecco perché il problema è reale quindi non ci si può nascondere ecco. Quanti sono gli allevatori qui a Vilminore di Scalve? Penso una ventina circa una ventina sì. Sì sono tutti allevatori che principalmente conferiscono tutto quello che è la loro produzione del latte nella latteria sociale montana di Scalve. Quindi è un'attività che lavora sul territorio e ha la sua importanza. Quindi merita un occhio di riguardo anche per ricercare appunto di risolvere quelli che sono i problemi legati a questa attività. Questo studio di fattibilità e quest'operazione potrebbe anche dare lavoro a una o due persone che poi sarebbero qui. fissi a gestire anche quello che è la gestione e gli scarichi. Sì in effetti ripeto una volta se riusciremo poi in concreto a realizzare questa letta maia c'è poi bisogno anche appunto di persone che poi la seguano. E quindi abbiamo così proprio fatto due calcoli così a spanne però ecco pensiamo e crediamo che in un futuro questo impianto possa con il ricavato della vendita del terriccio possa dare un reddito almeno a un paio di persone. Ecco possa dare lavoro a un paio di persone.